Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video L'ultima notizia ho sentito che Aaron Ramsey, il giocatore dell'Arsenal Dovrebbe andare alla Juventus Allora, non so se questo è fake news, real news, ma secondo me Nubiam Secondo me la Juve non prenderà Secondo me la Juventus, se riesce a pillare Cristiano Ronaldo, sicuramente Perché no, riesce a pillare Mbappé Ma secondo me non prenderà Aaron Ramsey Perché Aaron Ramsey non è un granché Devo dire che se viene qua fa due o tre gollette e poi lo vendiamo Come Alvarez, alla fine stagione lo buttiamo via Come Alvarez, quindi per favore Juventus non spiegare i soldi Devo comprare talmente tanto, compratello, ma è un grandissimo errore Per la Juventus, per tutto, per la Juve, per tutto E secondo me Se lo compriamo Lo compriamo Non giocherà mai E lo buttiamo via come aveva fatto con Alvarez Alla locomotivus, con queste squadre qua Secondo me lo pigliamo O non lo so Scrivete qua giù nei commenti Hashtag lo prendiamo Hashtag non lo prendiamo Per sapere se lo prendiamo Comunque il video è sempre qui Cazzo mi ho portato Forza di voi